ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come massimo soldi se l'è vista brutta nelle ultime ore sui social è stato condiviso il video che lo ritrae in gravi difficoltà alla guida della sua macchina massimo boldi attore comico italiano è stato ripreso mentre è andato vicino a fare un bruttissimo incidente in mezzo alla città i passanti si sono fermati a osservare la scena e qualcuno ha ripreso il momento con il cellulare per poi pubblicare l'accaduto sui social l'attore che con christian de sica ci ha regalato tantissime commedie cinepanettoni è stato bersagliato da molte critiche su instagram per essere finito con la sua auto sui binari del tram con il fango dovuto al maltempo che non gli permetteva di proseguire e anche quando finalmente l'auto si libera sembra proseguire dritto e non rimettersi sulla strada riservata alle auto creando il panico e rischiando davvero gravi conseguenze che cosa combina massimo boldi io vedo solo un anziano in difficoltà scrive una follower disastrando comprensione all'attore che però qualcuno riprende per il suo comportamento suggerendo di togliergli la patente perché è un pericolo per sé per gli altri se non è più in grado di guidare un altro sottolinea che boldi non ha detto e fatto niente per ringraziare chi lo stava aiutando spingendo l'auto in avanti e un'altra scrive rimbambito mai piaciuto e la sua comicità scadente ridicolo nel video qui sotto potete vedere l'accaduto seguono altri commenti che punto il dito sull'attore milanese sottolineando che forse le sue condizioni di salute mentale non sono più come prima e ha bisogno di aiuto non è più il cipollino dei tempi d'oro si legge sotto il post pubblicato sul profilo instagram di super guidativi insomma una pioggia di critiche al comico insieme a qualche parola contro coloro che erano presenti sul posto ma non hanno fatto niente per aiutarlo e sono rimasti lì a guardare e riprendere con il cellulare grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video grazie a tutti Sous-titrage ST' 501